Teresa Langella Sono accusata di aver architettato tutto questo a tavolino. Quale sarebbe, dunque, l'unico obiettivo di Teresa Langella? Al di sotto di una foto è svelata tutta la verità dei tre spettatori. Le accuse contro Teresa Langella, come tutti i fan, avranno avuto modo di vedere. Il profilo Instagram di Teresa si è trasformato in una vera e propria vetrina. I contenuti che pubblicano, ormai, sono prettamente legati a sponsorizzazioni e pubblicità. Tra abiti, accessori, applicazioni e quant'altro, Teresa sembra essere diventata la testimonia al ripunto dei social. Questo non è certamente un fatto attivico. La cosa che, però, sta infastidendo numerosi utenti è che la Langella ha sempre screditato le persone che facevano questo. Nel corso di tutta la sua esperienza a uomini e donne, Teresa Langella ha sempre criticato tutte quelle persone che avevano come obiettivo l'apparire sui social. L'extronista aveva sempre accusato Andrea dal corso di essere troppo legato al mondo dei social a differenza sua. Teresa si è sempre descritta come una persona semplice e genuina e il pubblico ci aveva creduto. La foto di Teresa bersagliata dagli haters. Le sue parole, però, molto presto si sono scontrati completamente con l'area. Una volta terminata l'esperienza a uomini e donne, infatti, Teresa ha riaperto il suo profilo Instagram ed ha incominciato un vero e proprio business. L'apice è stato toccato con il lancio del nuovo singolo che sta spopolando su YouTube e su social. Grazie ai numerosi follower di cui gode la ragazza, infatti, il brano è divenuto virale in men che non si dica, insomma. La ragazza ha sicuramente saputo cogliere al volo l'occasione propizia cavalcando l'onda del successo. Proprio per questo motivo, al di sotto dell'ennesima foto sponsor, gli utenti si sono sfogati contro di lei dicendole tutto ciò che pensano. Molte persone, infatti, l'hanno accusata di incoerenza e di falsità. Quasi tutti sono dell'idea che Teresa Langella sia andata a uomini e donne con il solo obiettivo di fare successo nel mondo dello spettacolo e della musica. L'immagine incriminata è riportata di seguito. Insomma, anche Teresa è caduta nella trappola dei soci. Anche in questo caso, dunque, c'è stata